Buongiorno agli ascoltatori, la verità alle 7 che scocchiano in questo istante, questa è la rassegna politicamente scorrettissima della verità, buon lunedì e buon inizio di settimana. Una settimana che sarà particolarmente significativa perché il giorno 23 ci sarà in videoconferenza il Consiglio Europeo. Quali sono i temi del giorno ripresi via via dalle prime pagine dei giornali? Il protagonista del giorno non in positivo e si occupa di lui come merita, Walter Ricciardi, l'ineffabile consulente del governo, membro di un comitato dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che non pago di tutto quello che aveva detto e scritto in tutte queste settimane e mesi sulle mascherine, sui tamponi che non andavano fatti agli asintomatici, di critica al Veneto, due giorni fa aveva detto ma qui la colpa è degli elettori che votano i populisti, i sovranisti. Ecco, gli è sembrato poco, l'altra notte ha pensato di rituitare un video, tuitato a sua volta da Michael Moore, il regista americano fortemente antirepubblicano, in cui comparivano dei personaggi che prendevano a pugni e a calci delle sagome con il volto del presidente Trump. Apre di cielo, pandemonio, Ricciardi a un certo punto ha tolto il video, ma come si dice peggio la toppa del buco perché la giustificazione non giustificava nulla, fino a essersi preso in serata una sorta di presa di distanza dalla stessa OMS, che peraltro come sappiamo non è esattamente un covo di filo occidentale, quindi c'è questo primo fronte di cui si occupa il direttore Belpietro. Poi c'è il fronte MS e Consiglio europeo, oggi il presidente del Consiglio italiano Conte dà un'intervista a un quotidiano tedesco, la Suddeutsche Zeitung, ma il contenuto dell'intervista è stato anticipato ieri sera e il cuore dell'intervista è un vedremo, sì certo Conte dice il messa a cattiva fama eccetera, ma lungi dall'esserci una chiusura muscolare c'è un vedremo quali saranno le condizioni, le modalità, insomma prosegue la marcia di avvicinamento al cedimento, comunque taroccato, truccato e camuffato. Però il fatto quotidiano guardia svizzera di Conte parla di Veto, vedremo tra poco la versione del fatto quotidiano chiaramente contraddetta da un altro vedremo del ministro degli affari europei Amendola intervistato sul Corriere della Sera. Vedremo anche un retroscena di D'Argenio su Repubblica su quale potrebbe essere il trucco finale della von der Leyen e della Commissione, oltre che del Consiglio europeo, mentre la verità demistifica l'intervista di ieri al direttore del MES, Redling, il tedesco, sentito da Federico Fubini sul Corriere, in quella che doveva essere un'intervista rassicurante e invece però non rassicura proprio niente perché da un lato sparge latte e miele, ma poi ammette che in una fase successiva restano tutte le regole vigenti. Politicamente un po' di spunti, non c'è dubbio, c'è la questione, ci hanno detto ma qui bisogna sospendere tutto e invece l'unica cosa che non hanno sospeso è la buffata delle nomine. Balcanizzazione interna al Movimento 5 Stelle e è tornato fiammeggiante Alessandro Di Battista per dire che dobbiamo schierarci con la Cina. Mentre ieri aveva destato attenzione e sorpresa e immaginiamo da quanto scrive oggi Alessandro Sallusti anche una certa insoddisfazione dei lettori, l'intervistona molto rispettosa e letta da molti come un'apertura politica sul giornale a Giuseppe Conti. Oggi c'è la frenata di Alessandro Sallusti. C'è naturalmente la questione sanitaria, l'attacco alla Lombardia che prosegue, la polemica a Lombardia-Lazio e la polemica francamente incredibile delle regioni del sud con De Luca che minaccia di chiudere le regioni del sud, non si capisce sulla base di quali poteri, con quali strumenti eccetera rispetto ai cittadini eventualmente provenienti dal nord e su questo a mano felice il governatore veneto Luca Zaia a dire che qui dicono tutti nord contro sud e semmai questa volta è sud contro nord. E poi le segnalazioni conclusive. Allora questo l'ampio sommario, andiamo a vedere le aperture. La verità, Zingeretti si è perduto mascherine per 35 giorni, non arriva la fornitura affidata a una misteriosa società la cui Holding è in una modesta abitazione nell'edificio di un ex oratorio a Frascati. Il portavoce del governatore in imbarazzo dice abbiamo una polizza, così il titolo d'apertura della verità, sulle giustificazioni obiettivamente non convincentissime della regione Lazio. Corriere della Sera, ecco le regole per riaprire. La riapertura non c'è, però insomma prosegue l'ampia diffusione di anticipazioni, le aziende dovranno autocertificarsi, limiti per chi non ha la app e quindi vedete che torna questa storia, c'è questo tentativo di trasformare la app in una cosa semiobbligatoria. Peraltro da come funziona questa app, più che una app sembra un Trojan, sembra uno di quei captatori che sono in grado di, insomma, dopo gli arresti domiciliari un'operazione di intercettazione di massa, ma naturalmente invece però le società assicurano l'anonimato totale, la garanzia assoluta e speriamo bene. Vi abbiamo detto dell'apertura curiosa del fatto quotidiano, UE Conte pensa al veto e direte voi, ma da dove la prendono questa cosa? Esattamente dall'intervista alla Suddeutsche Zeitung in cui però, come vedremo, Conte sembra più aperturista che intransigente. Il giornale, siamo diventati una preda, avvoltoi sull'Italia e poi il tempo con Franco Becchis che prosegue e fa bene a esaminare, lo ha fatto la verità a onor del vero con un certo anticipo, tutto quello che non funziona nel decreto liquidità, vuoi 25 mila euro nel titolo del tempo? Discolpati e sì perché ci sono ben 18 diverse condizioni da autocertificare e poi la valutazione di merito può essere posposta e possono revocarti tutto con le conseguenze del caso. Repubblica, virus, quanto manca all'alba e si dà conto delle dichiarazioni rese ieri da Patuanelli, ministro Patuanelli nella trasmissione di Fabio Fazio e si può pensare di riaprire per singoli territori. E infine la stampa, mezza Italia riparte tra i dubbi del Premier. Così il quadro delle aperture. Da cosa partiamo? Partiamo, come facciamo sempre, da Maurizio Belpietro che va dritto su Ricciardi. Basta con le giravolte, Ricciardi si dimetta. Direttore della Verità ricorda tutto il pedigree non brillantissimo e non solo nelle ultime settimane del cosiddetto supertecnico e consulente del governo e conclude Belpietro. Però Ricciardi non è famoso solo per le sue gaff sul coronavirus ma anche per certi suoi tweet. Nel passato, quando ambiva un ruolo politico, si è candidato senza successo con Mario Monti e si è arruolato, anche qui con scherza fortuna nel movimento di Carlo Calenda, diede degli analfabeti funzionali alla maggioranza degli italiani, augurandosi che prima o poi patissero le sofferenze della Grecia in modo da poter capire il valore di gente come Amato, Ciampi e Monti. Il consulente del ministro Speranza per la nostra salute il meglio lo ha però dato ieri riprendendo un tweet di Michael Moore contro Trump. In pratica il regista noto per credere che l'attentato alle Twin Towers sia stato un grande complotto americano invitava a prendere a Cazzotti un pupazzo con il volto del presidente e Ricciardi ha rituitato il messaggio con un suo commento. Evidentemente preso dall'emergenza italiana il nostro rappresentante all'interno dell'OMS si deve essere dimenticato che l'America, il maggior contributore dell'OMS, è uno dei migliori alleati dell'Italia che intende aiutare anche in questa emergenza e quando qualcuno gliel'ha fatto notare il nostro esperto ha fatto sparire il tweet scrivendo di essere stato frainteso. A suo dire avrebbe voluto scrivere guardate quanto è amato. Certo tutti quelli che vi amano invitano a prendere a pugno un pupazzo che vi rappresenta. Ecco per voi Ricciardi è un illustre sconosciuto ma per noi è colui che ci rappresenta e soprattutto colui che consiglia speranza sulla nostra salute. C'è poco altro da aggiungere se non che un tipo del genere è meglio che si dimetta. Così Maurizio Belpietro e oggi Maurizio Belpietro il suo fondo è un'eccellente ragione per prendere la verità corredata da una serie di altre ragioni che vedremo via via in corso d'opera ma intanto come faccio sempre vi anticipo le interviste del lunedì. Stefano Filippi sente Pietrangelo Buttafuoco, scrittore, saggista, commentatore. Federico Novella sente un imprenditore e che imprenditore? Arrigo Cipriani il fondatore della Race Bar. Alessandro Ricco sente l'assessore Mattinzoli quello che si era fatto sfuggire un audio abbastanza robusto nei confronti di Conte e però diciamo dà le sue spiegazioni su questo. Chi l'ha sentito ed è un'intervista che pure si raccomanda Claudio Borghi l'esponente leghista presidente della commissione bilancio della camera che si raccomanda per diverse ragioni ma in particolare per due. Una che guarda indietro Borghi dice guardate che Conte aveva iniziato a cedere già quando c'era l'altro governo dice noi noi lega intende Borghi l'abbiamo scoperto e denunciato da allora ma il cedimento già c'era ai tempi di Conte e Tria. E l'altra cosa Borghi guarda al futuro ormai immediato al Consiglio europeo del 23 e dice guardate che arriveranno a una specie di mess camuffato da Eurobond e spiega perché alla Lega al suo partito non piace nemmeno quella prospettiva in quanto debito gestito dall'Europa in quanto diciamo ulteriore forma di accentramento su Bruxelles. Vi raccomandiamo anche questo. Allora partiamo proprio da questo lato mess. Oggi sulla verità trovate anche, ve lo accennavamo nel sommario, una demistificazione dell'intervista di Regling di ieri a Federico Fubini sul Corriere della Sera. È importante questo pezzo di analisi perché insomma l'operazione mediatica di ieri sul Corriere era quella di dire guardate facciamo parlare direttamente il tedesco se ve lo dice lui che è tutto a posto, che è tutto tranquillo dovete stare sereni come diceva quello lì. Per la verità già il titolo non faceva stare sereni perché non sarà un'altra Grecia e fa capire che la Grecia fu massacrata all'epoca. Ma attenzione perché Regling, tedesco che sa scegliere le parole, nella risposta chiave dell'intervista usa pari pari le stesse parole del punto 16 della dichiarazione dell'Eurogruppo, quella in cui si dice che effettivamente non ci saranno condizioni per le spese dirette e indirette legate all'emergenza sanitaria. Ma dopo, after wars, i paesi dovranno comunque sottoporsi alla disciplina europea, al framework europeo, al controllo, al quadro di controllo e supervisione economica e finanziaria. Qui fa capire molto bene che collare e guinzaglio possono essere rispettivamente stretti e tirati un momento dopo. L'altro passaggio significativo è quando Regling non spiega bene cosa siano le spese indirette e anche lì fa capire che per gli amici le regole si interpreteranno, per quelli meno amici saranno rigidamente applicate. Sulla verità trovate anche oggi un approfondimento curato da Fabio Dragoni su Olanda e Germania, il fronte del nord, fronte rigorista, mentre Giuseppe Liturri sente, ed è una conversazione anche questa molto interessante, Vladimiro Giacchè, anche sugli aspetti bancari. Ma vi dicevamo che ha fatto rumore ieri sera l'anticipazione dell'intervista che oggi Conte dà alla Suddeutsche Zeitung. Un po' tutti i giornali tirano fuori un virgolettato di Conte, il Mess ha cattiva reputazione, però vedete come racconta le cose Enrico Marro sul Corriere della Sera, che non può nascondere il senso politico dell'operazione. Ecco l'ultima colonna del pezzo di Marro. L'intervista conferma anche che il no al Mess del nostro paese è meno granitico. Il Mess ha una cattiva reputazione in Italia, dice Conte. Non abbiamo dimenticato che ai greci sono stati imposti sacrifici ben oltre l'accettabile. Di qui la mia posizione è fondamentalmente scettica. Vediamo se la nuova linea di credito nei fatti sarà senza condizioni. Ieri il Premier ha avuto una telefonata con la Presidente von der Leyen, la quale sta lavorando con Michel a una proposta di compromesso da presentare al Consiglio europeo. Emissioni di bond comuni garantiti dal bilancio 2020-2027 dell'UE e in parte dagli Stati membri. Il problema è come far arrivare queste risorse subito e ci torneremo tra poco con un retroscena di Repubblica. Ma prima continuiamo a percorrere il filo che abbiamo un po' descritto. Cedimento, inutile girarci intorno, sì vedremo eccetera. Lo fa capire anche un paio di pagine più avanti sul Corriere della Sera, sentito proprio da Federico Fubini, l'impalpabile Ministro degli Affari Europei Enzo Amendola, la risposta a Regling, accettare un prestito. Vogliamo capire bene tutti i dettagli e capite che se uno va già a un tavolo e dice vabbè fateci vedere i dettagli, non è uno che è orientato a rovesciarlo questo tavolo. Volete invece tutta un'altra storia? Il fatto quotidiano deve galvanizzare i lettori, le copie non vanno un granché, sostenere il governo ai suoi costi e anche la curva più tifosa si deprime un po' e Travaglio cerca di dare vitamine e proteine ai lettori, uè Conte pensa al veto. Vedete un po' voi se da quello che vi ho letto finora è aria di veto o aria di inchino, ma questo è quello che vi racconta il fatto quotidiano. Vediamo invece cosa vi racconta Repubblica, in questo caso l'analisi di Alberto Vergenio ci riporta pari pari alla conclusione del pezzo di Marro che abbiamo visto prima sul Corriere della Sera, il piano von der Leyen, mille miliardi di bond per i paesi in difficoltà. Vediamo un po' come conclude Vergenio. Il piano von der Leyen dal punto di vista tedesco avrebbe il pregio di mettere in campo euro bond mascherati in quanto sarebbe la commissione a emetterli evitando una mutualizzazione diretta delle risorse dalle casse nazionali. Inoltre i fondi sarebbero gestiti dalla commissione garanzia per l'elettorato del nord che non verranno sperperati in favore delle cicale del sud. Resta comunque il serio rischio che qualche altro paese del fronte pro austerità blocchi l'aumento fino al 2% delle cosiddette risorse proprie di Bruxelles e sì perché tutto si appoggerebbe sul bilancio comunitario 2020-2027 la cui approvazione che richiede l'unanimità è diciamo impantanata da un po' di tempo quindi sarebbe un tentativo di tenere tutto insieme però vedete bene che come dire si tratterebbe di risorse gestite da Bruxelles con un ulteriore elemento di centralizzazione gli stati dovrebbero diciamo soltanto pagare il prestito poi la gestione in capa Bruxelles prefigura un'ulteriore centralizzazione un'ulteriore pilota automatico francamente tranne chi ami avere diciamo collari e catene e esser tenuto da qualcuno in questo caso da Bruxelles tutti gli altri dovrebbero dubitare di tutto questo che trasformerebbe un governo italiano in un mero esecutore di decisioni prese altrove. Il quadro politico non è brillante intanto non è brillante la situazione del Movimento 5 Stelle che per quanto in caduta libera sul piano elettorale in questo Parlamento è pur sempre il partito di maggioranza relativa con numeri impressionanti di deputati e di senatori. Emanuele Buzzi sul Corriere della Sera racconta la balcanizzazione del Movimento 4 partiti nei 5 Stelle il Movimento così non c'è più e allora vediamo come è questa vediamo questa una volta c'erano i kremlinologi che interpretavano le foto e la posizione dei vari gerarchi sovietici adesso vediamo come Buzzi ci aiuta a capire la foto della casa legge associati e della sua propagine politica. Ci sono i progressisti eredi in parte dell'ala ortodossa che vedono di buon occhio l'alleanza di governo e vorrebbero anzi una coalizione più stabile e duratura pur mantenendo un'identità indipendente. Alcuni come Fico, Patuanelli e Dinka hanno ruoli istituzionali e di governo. Qui abbiamo i progressi quelli che andiamo avanti così che vabbè forza Conte forza giallorosso. C'è poi un fronte moderato che di fatto rappresenta il nerbo di governo del Movimento. Frontmen in questa fase sono lo stesso Crimi, il capodelegazione Bonafede, il sottosegretario Fraccaro su cui sono piovuti oneri e onori di una gestione complessa fatta di compromessi sempre più indigesti ai parlamentari e se sulle nomine c'è chi parla di autogol questo rende ancora più intransigente la posizione del MES. Stella polare dei moderati è Luigi Di Maio che rimane in questa fase regista nell'ombra, l'uomo della diplomazia e dei temi economici. Kissinger diventa l'uomo. Poi ci sono i neopragmatici, anello di raccordo dialogante tra le varie sensibilità. Tra loro ci sono Emilio Carelli e Stefano Buffaio, considerato uomo di vera ansia tra le diverse anime del 5 Stelle che fa da ponte con le voci del nord come i consiglieri regionali Dario Violi e Jacopo Berti. Ah beh se fa da ponte con Violi e Berti. Nello scacchiere non potevano mancare i movimentisti che sono dati in forte crescita ma che raccolgono uno spettro che va dai terzomondisti ai sovranisti e a loro volta hanno due profili differenti. Alessandro Di Battista con l'ex ministra Barbara Lezzi e l'europarlamentare Ignazio Corrao guida l'ala di piazza che è pronta a scendere in campo per contendere la leadership. Poi ci sono i big storici riformisti con anima sinistra come Nicola Morra, Paola Taverna e Max Bugiani. 5 Stelle sì ma almeno 4 partiti. Paola Taverna sarebbe una big storica riformista. È tutto meraviglioso. Questa dovrebbe essere una geografia, sembra più un bestiario ma comunque voi orientatevi così. Vi serve un ulteriore fattore di orientamento. Il gran ritorno di Dibba che è tornato un pezzo fiammeggiante sul fatto ieri spiegando che bisogna puntare sulla Cina, bisogna scommettere su Pechino. Mancava una bella spinta sinofila e tutto questo lo racconta Annalisa Cuzzocrea su Repubblica. Di Battista mina il governo, il 5 Stelle si spacca, sciacallo e ripartono le espulsioni e si dà voce a un anonimo messo tra virgolette. Alessandro non vuole solo lanciare un'opa sulla guida dei 5 Stelle, dice uno dei deputati che la conosce meglio e dà più tempo. In realtà lui e i suoi mirano a far cadere Conte perché pensano che stia normalizzando il movimento, vogliono tornare all'opposizione. Intanto come in ogni bel movimento autoritario che si rispetti ripartono le espulsioni, da quanto si capisce, il prossimo da espellere è il senatore Mario Giarrusso. Sull'altro versante è, vi dicevamo nel sommario, che ha destato una certa attenzione e perplessità in molti l'intervistona che ieri il giornale ha fatto al Presidente del Consiglio. Per carità è sempre un colpo giornalistico importante quando un quotidiano sente il Presidente del Consiglio, ma se è un quotidiano dell'area di opposizione culturale e se il Presidente del Consiglio viene presentato in modo con guanti bianchi è qualche sospetto si crea. È partita una lettura politica, ma che cosa vuol dire? Ma allora l'area di riferimento del giornale vuole aprire. Oggi è quello della frenata per Alessandro Sallusti che titola il suo editoriale Nessun pateracchio con Conte C. Vediamo com'è la frenata del direttore del giornale. Qualche lettore ieri ha storto il naso trovando sul suo giornale ben due pagine di intervista al Presidente Giuseppe Conte. Ma come sostengono? È il nostro nemico e gli date tanto spazio, eppure lo trattate con i guanti? Io penso, dice Sallusti, altrimenti non avrei fatto l'intervista, che sentire dalla sua viva voce che cosa pensi e pensi di fare il primo ministro sia importante e in quanto al tono è uno stile della ditta. Non si invita gente a casa propria per prenderla a cazzotti, a ragione se parliamo del Presidente del Consiglio dei Ministri, qualsiasi sia il suo cognome e la sua appartenenza politica. Il direttore del giornale è un uomo di grande esperienza e cerca di rassicurare i lettori, ma state tranquilli, l'abbiamo sentito perché è un colpo giornalistico, siamo garbati perché siamo persone educate, ma non ci saranno conseguenze politiche. Non la pensa così, ma è scansonato sul tempo Osho, il grande autore di satira che mette insieme foto e didascalie, il titolo messo però dal direttore Pechis, Perfido, Conte e Berlusconi, c'è aria di bunga bunga e andiamo poi alla fotonotizia con didascalia di Osho, ci sono Conte e Casalino che parlano e Casalino fa che vuoi che te cucino stasera e Conte stasera non c'è sto, c'ho una cena elegante. Vedremo se farà fede l'ironia scansionata di Osho, se invece farà fede il passo indietro o comunque il passo laterale, la spiegazione, la messa a punto, la precisazione del direttore del giornale Sallusti. Speriamo sia valida questa seconda opzione. Vi dicevamo che politicamente parlando c'è anche il tema delle nomine, hanno detto ma qui bisogna afferbare tutto eccetera, però invece sulle nomine sono andate avanti come rulli compressori. Non deve essere rimasto contento, ma queste sono sempre alchimie difficili da decrittare, i testi di Paolo Mieli vanno sempre letti, poi riletti, servirebbe un equivalente di Champollion con i geroglifici, bisogna trovare i codici, interpretare, però da quanto si capisce non deve essere rimasto contentissimo di metodo e merito e l'ex direttore del Corriere ne parla. Sul Corriere, giornale di cui è rimasto autorevole editorialista, prudenza e decenza avrebbero dovuto imporre che i prescelti della volta scorsa restassero in proroghe ai posti di comando fino al momento in cui tutto tornerà tranquillo. Tre quattro mesi il tempo di non offrire agli italiani il poco edificante spettacolo di un mercanteggiamento di cariche, mentre sono ancora alti il numero dei contagi e quello dei morti, questo è molto saggio da parte di Mieli, che poi però riesce a dare uno schiaffo all'opposizione, deve sempre volare uno sganassone verso l'opposizione, in questo caso però francamente è difficile incolpare, ma Mieli non si sottrae. Va subito detto che nella spartizione si sono impegnati tutti, proprio tutti i partiti della maggioranza e anche l'opposizione ha a suo modo partecipato. Così dice Mieli, ma vediamo come conclude l'ex direttore del Corriere. Da questo Super Game in ogni caso escono trionfatori i partiti che hanno architettato il rinnovo delle cariche, PD e Italia Viva di Renzi, cheppure non si è sentito appagato in tutti i propri desideri e di ciò si lamenta. È un ulteriore segnale dello spostamento del baricentro di governo a vantaggio del partito di Nicola Zingaretti e di rafforzamento di Giuseppe Conte. È riuscito nella non facile impresa di imbrigare i 5 Stelle coinvolgendoli in trattative che li rendono per così dire più malleabili in vista del delicato appuntamento del MES, a proposito del quale c'è da aggiungere che si spera a nessuno in Olanda e in Germania venga in mente di approfondire la conoscenza del modo assai poco trasparente con cui qui in Italia ancora oggi si procede alle nomine pubbliche. Ne verrebbero aggravati i ben noti antipatici pregiudizi nei nostri confronti. E allora noi che siamo un filino maliziosi, senza essere champollion con i geroglifici, forse la chiave di lettura l'abbiamo trovata ed è la consueta chiave di Mieli, e cioè PD tonico e forte che ha ripreso il centro della scena, Forza Conte che abile manovratore, meglio di Cavour, ci fa capire l'ex direttore del Corriere è riuscito a ingabbiare i ragazzotti 5 stelle, dandogli qualcosa nella partita delle nomi e rendendoli più morbidi verso l'accettazione del MES, stavo per usare un'espressione sgarbazzo, ma diciamo la capitolazione che si prepara il 23 prossimo e c'è anche la minaccia della frusta, altrimenti i tedeschi e gli olandesi, se vedono quello che avete combinato, quindi prendetevi il MES e fate i bravi. La questione sanitaria, e qui torniamo sulla verità, con, vi abbiamo già segnalato molte cose sulla verità, ma bene aggiungiamo delle altre. Intanto la bella inchiesta di Fabia Mendolara e Giuseppe China, che dicono, e qui Fontana, il governatore della Lombardia, ha ragione quando dice guardate che anche nel Lazio c'è stato uno spostamento verso le case di riposo, le RSA di malati Covid, c'è stata una delibera della regione Lazio non così diversa da quella della Lombardia dell'8 marzo. Sbugiardato il segretario PD malati di Covid ricoverati nelle case di riposo del Lazio è il pezzo di pagina 2. Mentre a pagina 3 Giacomo Amadori, ed è il pezzo che fa la copertina di prima pagina della verità di oggi, racconta un'altra debacle della regione Lazio, quella delle mascherine fantasma, 7 milioni e mezzo di pezzi fermi a Shanghai, ma diciamo pure la sensazione che le società a cui la regione Lazio ha fatto affidamento non siano tutte non siano tutte proprio solidissime. Colgo l'occasione per dirvi di passare in edicola naturalmente a prendere la verità, ma se non avete programmato di uscire fate l'abbonamento digitale perché in questo modo potrete recuperare anche un pezzo bellissimo di Giacomo Amadori di ieri sulla questione proprio degli anziani nelle RSA. Giacomo Amadori è uno dei vice direttori della verità, è noto per le sue inchieste giudiziarie, è noto per essere un giornalista dalla prosa robusta. Ieri mostra un altro lato, è un pezzo veramente molto molto toccante sulla situazione di molte residenze per anziani, case di riposo, è un pezzo che potete recuperare ieri. Nella stessa pagina 2 della verità trovate quello che vi dicevamo nel sommario Patrizia Floderreiter che dà conto del contrattacco di Zaia che dice non è nord contro sud, è sud contro nord. Zaia che viene sentito sul Corriere della Sera da Marco Cremonesi e risponde all'ennesima infelice frase del ministro Boccia che aveva detto il nord pensa al dio denaro e lo dice nessuno osi affermare che noi pensiamo solo al dio denaro. Zaia evoca anche la questione elettorale e propone, l'aveva fatto Giovanni Toti nelle scorse settimane sul versante politico opposto, mi pare di ricordare l'avesse fatto anche Michele Emiliano, elezioni regionali da tenere a luglio come sostengono i governatori di diversa appartenenza politica data forse più sicura rispetto a ottobre novembre quando chissà potrebbe esserci un'ondata di ritorno del virus. Mentre ci perdonerà l'interessato ma è francamente surreale l'altra intervista su Corriere della Sera, quella al sindaco di Milano Beppe Sala che oggi torna campione per la riapertura e ci spiega come si fa, doppi turni per le scuole, negozi aperti anche la sera e noi siamo d'accordo con questa versione però c'è da mettersi d'accordo perché c'era il Sala 1, Milano non si ferma, quando invece doveva fermarsi, ultima decada di febbraio poi il Sala 2 e attacca Fontani e dice no ma come puoi pensare di riaprire e oggi c'è il Sala 3 che dice no no, vi spiego io come si riapre, Sala 3 sul Corriere della Sera peraltro per chiudere questa parte sanitaria vi segnalo una sbrodolata di due pagine di Saviano su Repubblica, Saviano protagonista di una gaff memorabile nelle scorse settimane dicendo ah al nord sono succubi dei potentati e dei proprietari dell'RSA, poi è venuto fuori che uno dei soggetti legittimamente impegnati in questa attività imprenditoriale è Carlo De Benedetti, a lungo editore di Repubblica e di Saviano stesso, oggi Saviano fa tutto in una supercazzola per dire che lui no non è garantista però è per la verità e per il diritto, mette in mezzo sciascia tutto perché ovviamente per evidenti ragioni non può difendersi. Mentre siamo ormai alle segnalazioni conclusive, tre segnalazioni da fare, Franco Becchis, ve l'abbiamo detto, è l'apertura del tempo e poi l'editoriale del direttore che dice ma guardate state attenti che nel modulo per i 25 mila euro ci sono 18 punti da autocertificare poi c'è una valutazione di merito che può essere fatta diciamo successivamente che può avere un effetto devastante perché ti possono revocare tutto e state attenti a quello che fate. Sulla verità due pagine di inchiesta molto ben fatta, molto accurata di Laura della Pasqua corredata da un'altra intervista assolutamente da vedere col presidente di Confedilizia Giorgio Spaziani Testa sul tema dell'edilizia e degli immobili già in difficoltà per la patrimoniale Monti dal 2011, ora la botta è arrivata con la sospensione di tutto, lavori e c'è anche piccoli lavori di ristrutturazione su tutto questo. Laura della Pasqua, le due pagine e l'intervista al presidente Spaziani Testa. Mentre è molto ben scritta e molto divertente la stroncatura assolutamente centrata e questo ci riporta ancora a un'intervista di ieri su Repubblica dell'architetto Fuxas che spiegava che insomma lui intanto sta facendo la quarantena, se ricordiamo bene, in Val d'Orcia, nel Senese, una bella villa, un parco eccetera, poi diceva basta con queste case ai 60 metri quadri, qui ci vuole un'edilizia diversa e Francesco Maria del Vigo fa notare che è proprio una buona idea, c'è un piccolo problema economico che non tutti possono permettersi attici lussuosi o ville con parco e piscina. Il delirio chic di Fuxas è il titolo del commento di Francesco Maria del Vigo sul giornale col quale chiudiamo la puntata di oggi della verità alle 7, dandovi appuntamento tra poco in edicola con l'invito a prendere la verità, edicola fisica o edicola digitale e poi questa sera alle 19 chiacchierata per diciamo la versione serale della verità alle 7 con Claudio Antonelli, colonna della verità, firma in particolare sulle cose economiche ma anche responsabile come sapete della piattaforma digitale della verità e di Panorama. Allora appuntamento a questa sera alle 19, buona giornata e buona settimana a tutti. Grazie a tutti.